Questo è un premio dedicato ai ragazzi dai 13 ai 17 anni, è un premio organizzato da sé in collaborazione con il Ministero per l'Istruzione in Università e la Ricerca e intende coinvolgere quanti più ragazzi possibili sui temi scientifici. Devono elaborare un articolo giornalistico di giornalismo scientifico secondo un regolamento che prevede tre sezioni o i take di agenzia oppure un'intervista oppure un articolo secondo modalità poi indicate nel bando. Il premio intende valorizzare quelle che sono le competenze anche dei ragazzi all'interno dei percorsi scolastici e hanno la possibilità poi di vincere dei bei premi perché in palio ci sono settimane da redattore, da ricercatore oppure presso i Science Summer Camp. Da dove nasce questo premio, l'idea? Nasce da me, l'ho inventato perché la mia principale idea è quella di aiutare i ragazzi ad essere critici per il futuro e soprattutto analizzare la società contemporanea con un occhio più attento per farne poi delle generazioni consapevoli in futuro. Grazie a tutti!